già calone ben ben svegliati non correte no correte sul posto sul posto possiamo correre fuori al balcone e via dicendo comunque ecco dobbiamo far giustizia anche di questa faccenda del leone che ci hanno insegnato i bambini re della foresta della foresta un tubo re della savana eh questo errore storico che si compie sempre sul leone allora cominciamo a leggere no ma non è mica colpa tua no 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 però insomma no no quindi che casa di giacalone è una savana abbiamo capito esatto una savana una savana cominciamo a leggere insieme i quotidiani mai perdere la voglia di sorridere quante volte l'abbiamo ribadito anche nei passaggi più delicati l'apertura del corriere Davide è case di riposo offensiva dei PM ne abbiamo molto parlato tra l'altro anche in linea diretta con delle testimonianze da RSA Lombarde e Toscane già molto diverse cosa significativa e l'abbiamo notata ma andiamo a centro pagina lo si legge sulla prima del corriere ma lo trovate ovunque scontro sul mess ormai famigerato fondo salva stati nella maggioranza e intanto ai noi pil secondo le stime del fondo monetario internazionale meno 9,1 per cento del 2020 e come dire Davide noi siamo abituati a chiudere la fila lo facciamo anche in questo caso la Germania meno otto eh non è che facciano festa ma noi un pochino peggio è una storia vecchia di vent'anni noi sempre un pochino peggio degli altri sì e infatti non è questo non è il virus questa purtroppo è la normalità è una normalità qui non bisognerà assegnarci cui c'è assolutamente rimedio ma richiede insomma che ci si svegli proveremo a parlarne anche questa mattina quindi l'Italia nel quando si cresce cresce molto meno degli altri fanno fede da ultimo ma solo da ultimo i dati duemiladiciannove noi siamo cresciuti dovremmo avere la fila dovrebbe essere lo 0.3 per cento l'area dell'euro non le tigri asiatiche l'area dell'euro è cresciuta all'1.2 per cento vi ricordate quando noi dicevamo cresciamo la metà ma magari fosse stata la metà in realtà siamo a un quarto l'1.2 per cento per quel che riguarda l'anno in corso il fondo monetario internazionale prevede una recessione dell'area dell'euro del complessivamente nel mondo del 3 per cento è la prima volta che capita dalla dalla fine della guerra eh che c'è una recessione nel mondo del 3 per cento l'area dell'euro dovrebbe scendere del 7.5 per cento l'Italia 9.1 record assoluto di decrescita però attenzione questi dati segnalano anche una una un rimbalzo molto netto perché la ripresa del 2021 è prevista per esempio nell'area dell'euro al 4.7 eh l'Italia sta al 4.8 cioè eh c'è ci potrebbe essere capacità di reazione quali sono le cose da farsi per uscire da questa condizione di essere quelli che si precipita di più e poi si cresce di meno prima di tutto bisogna chiarirselo al nostro interno non farne un argomento di folle folle contrapposizione odologica l'Italia che deve stare legatissima alla fonte della sua liquidità cioè la fonte dell'Unione Europea e della Banca Centrale Europea fuori da quella legame strettissimo l'Italia è morta è morta finiamo in default in italiano si dice bancarotta assai facilmente questa liquidità che è la secondo punto deve andare alle aziende eh noi abbiamo un interesse vitale a tenere legatissimo il rapporto tra la liquidità che viene distribuita e la quella che dovrà essere prodotta anche nell'ipotesi di fare distribuzioni a fondo perduto che ci può stare quest'anno tra l'altro c'è un interessante studio fatto su questo tra l'altro da tra gli altri da professor Tria ex ministro dell'economia nel primo governo Conte ci può stare anche la distribuzione a fondo perduto significa soldi che lo Stato dà e che non chiede neanche indietro ma devono essere dati per mantenere i posti di lavoro e piuttosto che pagare i 600 euro alle partite IVA con regolare ritardo e tanto vale dire quelli che avevano il lavoro prima allora si passa al fondo perduto per le aziende perché quelle quello che veniva pagato nel 2019 si è pagato anche nel 2020 la domanda è e come fanno quelli che sono fuori come fanno quelli che non avevano un lavoro nel 2019 come fanno quelli che nel 2019 avevano un'attività in qualche modo legata all'economia irregolare diciamolo pure all'evasione fiscale chiaro all'evasione fiscale quelli che fa certo non c'è un contratto non c'è una possibilità di prolungare quello che era il 2019 che si fa con loro con loro si fa un'altra cosa piuttosto che allungare denari che dati all'economia nera mi sembra francamente sia l'ultima delle cose che si possa fare c'è una ricchezza enorme in questo paese che si chiama il volontariato che è il cosiddetto terzo settore si passi agli aiuti alimentari si passi agli aiuti materiali e li si faccia gestire a quel pezzo d'italia che ha cuore ma che ha anche cervello e capacità di organizzazione sono queste la modalità di spesa che ti consentono la mattina dopo di ripartire perché noi dobbiamo ripartire dobbiamo riaprire il tema da porsi commissione colao la lombardia quello che dice l'italia deve riaprire la produzione deve ripartire possiamo fare ancora sacrifici nella nostra libertà personale ma la produzione deve ripartire perché quando ripartirà il pezzo d'italia che esporta e nel mondo si ricomincerà a camminare quelle cifre del del fondo monetario internazionale indicano che si può tornare a correre l'italia non può restare indietro su quel mercato lì la sfida è assolutamente alla portata di chiunque in italia non si sia perso imbriacato di balle e ideologie davide vorrei proporti se me lo permetti una riflessione che esula dagli argomenti trattati oggi sulle prime pagine dei giornali non so tu ma io sono rimasto molto colpito in questi giorni da come la televisione italiana non tutta ovviamente ma alcuna sta raccontando con le immagini gli italiani più bisognosi mi ha colpito vedere telecamere che entrano nei centri che offrono cibo nei centri ovviamente di volontariato nei centri caritas nella comunità di sant'egidio potrei citarne tantissimo e l'inquadratura delle persone che si recano in questi centri in fila per mangiare la trovo francamente di cattivissimo gusto come trovo di cattivissimo gusto vedere telecamere che inseguono i nostri connazionali che fanno i furbi e magari o fanno i coglioni e corrono per i prati rincorsi da poliziotti e dai carabinieri cioè l'idea di mantenere anche un po' di dignità nel non far vedere i volti di queste persone in televisione secondo me è un invito che noi dovremmo fare pubblicamente perché è inaccettabile guarda sono tu sollevi due questioni allora prima è più facile di tutti l'italia e gli italiani stanno dimostrando un grande senso di disciplina praticamente diciamo così contro tutti i luoghi comuni che noi stessi italiani utilizziamo sull'italia e sugli italiani la informazione il tema non è quello diciamo delle informazioni false ma delle informazioni falsate perché se io mando ogni giorno in onda lo spettacolo compreso sui giornali dove non va in onda ma siamo le fotografie le polemiche di quelli che violano le norme io do l'impressione che l'italia si appiega di non è vero ma non è vero ma lo può constatare qualsiasi persona abbia ancora una finestra ti affaccia e guardi di sotto quella che vedi sul marciapiede è l'italia che ti stanno descrivendo no e allora ti stanno descrivendo una cosa ma è vero quelli che uscivano è vero quello che corre è vero quello che stava sulla spiaggia congratulazioni ma se fai vedere solo quello dai l'impressione che questa sia la sola verità e invece non è così anzi la verità è all'opposto questa mania di spettacolarizzare di alzare la voce io spero penso anche ma oltretutto spero che con questa stagione passino dai teleschermi e dai giornali anche diciamo gli informatori che diffondono disinformazione urlata rabbiosa rancorosa se fosse possibile farla finita grazie sarebbe una grande cosa la seconda questione che sollevi è quella della povertà anche lì noi abbiamo diffuso balle sulla povertà nel senso che ne abbiamo diffuso un'immagine sbagliata molto spesso negli anni si è andati a cercare l'anziano povero che naturalmente esiste pure quello e ha diritto anche lui alla riservatezza quindi di non essere ripreso però in realtà non è vero nel senso che purtroppo da noi la povertà che è cresciuta di più è la povertà dei giovani dei bambini che è una cosa che dovrebbe mordere il cuore e delle dei capo famiglia mettere come ti chiamano maschio femmina non ha poco importanza giovani perché sono i meno protetti e naturalmente in questa area di povertà crescente e crescente la povertà di quelli che oggi contabilizziamo come Italia sono immigrati questo pone un problema ovviamente e quindi pone un problema di soccorso certo che se tu vai a soccorrere quelli sbagliati cioè se hai un'idea del povero che non è quella reale basterebbe semplicemente anziché mandarci le telecamere mandarci qualcuno interessato veramente a sapere queste cose scoprirebbe che alla mensa trova più figli dell'ex ricchezza tipo per esempio i padri separati piuttosto che non quelli che vede normalmente nei show e che servono a far crescere ancora una volta la spesa che non produce e che naturalmente impoverisce tutti quanti. Davide c'è questa tematica stamattina un po' ovunque ma in realtà se ne parla da giorni la questione dell'app che traccia i contagi che traccerà adesso insomma c'è tutta la tematica anche poi della privacy del chi è d'accordo del chi non lo è se serve o non serve insomma andiamo a pagina 9 del sole 24 ore mappe del rischio per le imprese arriva l'app che traccia i contagi insomma si parla di questo nella fase 2. Allora va bene tutto per uscire vogliamo fare l'app d'accordo si faccia l'app per tracciare però l'app per tracciare senza i test clinici per sapere chi è che ha contaminato magari se mi viene una febbre a 40 me ne accorgo da solo grazie però il problema è quando non sono asintomatico quindi l'app senza i test serve sostanzialmente a niente secondo va bene consegnare un altro pezzo di peraltro molto rilevante di privacy e di riservatezza però non fatemi vedere che finisce nelle mai della commissione che deve vigilare cioè lì ci vuole qualcos'altro di molto più efficace perché sia chiaro che quei dati servono per tracciare le persone che prima hai appurato che sono contaminate e che poi quando scopri che sono contaminate puoi vedere con chi hanno avuto i contatti e che quei dati per nessuna ragione al mondo fosse anche la guerra alla mafia e al terrorismo internazionale quei dati serviranno solo ed esclusivamente a questo perché poi si comincia dicendo eh ma c'è la mafia eh ma bisogna no quei dati sono solo per la salute altrimenti il virus che ci facciamo entrare dentro casa con i telefoni finisce con l'essa avere un ruolo devastante più lungo nel tempo e il quindice aprile mezzo mese se ne è andato si avvicinano anche le date i giorni della uspicata ripresa lo dicevamo con Davide Giacalone poco fa e più che altro qui si riuniscono commissioni a tal proposito attenzione abbiamo appena parlato dell'app che dovremmo utilizzare ma attenzione massima ai nostri dati ce n'è un'altra di commissione questa è spettacolare quella sulla verità ossia un una serie di cervelli ci si augura che dovrebbe dire a noi tutti quali sono le notizie da leggere e quali no queste cose Davide onestamente Orwell le aveva scritte aveva messo nero su bianco insomma è diventato famoso anche con questi pensieri ne sentivamo proprio la necessità della commissione sulle fake news no non ne sentivamo affatto la necessità quello di cui si sente la necessità è un buon giornalismo un buon giornalismo è quello che non lisce il pelo che non ha seconda gli umori ma neanche spera di crearli gli umori cerca di dare le informazioni l'obiettività non esiste questo perché sia chiaro io comunque la realtà la guardo con i miei occhi e i miei occhi peraltro hanno bisogno degli occhiali quindi già ci sono diversi diciamo filtri alla realtà ma io posso essere onesto ecco quello che quello che mi si può chiedere di essere onesto cioè di non nascondere fatti che 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 mi sembra vadano contro quello che penso quello che colpisce quello che inquina la realtà certo ci sono anche diffusori di balle perché fra l'altro fake news è più lungo e meno meno espressivo di balle vi faccio un esempio qualche giorno fa è capitato a proposito del celeberrimo mess di ricordare che il mess è stato trattato dal governo berlusconi e fra l'altro dissi che lo ricordavo perché lo ritenevo un merito del governo berlusconi non ritengo mica un decriminato hanno fatto bene mess è una cosa buona è una cosa giusta ora i più cortesi che mi hanno scritto dopo quell'affermazione dice ma lei è sicuro ma lei veramente gli altri erano un po meno cortesi dicendo diffusore oggi c'è un pezzo silvio berlusconi firmato da silvio berlusconi sulla prima pagina del giornale dove è scritto tra le altre cose che dire di no al mess sarebbe un errore clamoroso e dice tra virgolette fu il governo di centrodestra che avevo l'onore di di guidare nel 2011 a trattare il meccanismo europeo di stabilità il cosiddetto mess ora per saperlo io ringrazio anche personalmente il presidente berlusconi per averlo ricordato ma per saperlo non c'era mica bisogno che che te lo dicesse berlusconi eh basta studiare basta saperlo e visto che ci siamo a proposito di balle che si raccontano e degli effetti che poi le balle hanno noi non dovremo prendere i soldi del meccanismo di stabilità per la per la sanità ma perché ma perché c'è qualcuno in grado di spiegare perché sono i soldi prestati a più lunga scadenza al più basso tasso e senza condizioni perché se non accecati dall'ideologia dovrei rifiutare quello che è all'evidenza una cosa come 36 miliardi da spendersi nella sanità perché non dovrebbero essere solo in ossequio alla potere fare la campagna elettorale no al mess e poi perché no al mess in generale perché perché il mess non funziona e qui arriva la balla ma la balla insieme alla disinformazione perché ha affamato i greci perché i greci muo la grecia muore perché il mess la fa male la grecia è stata salvata il mess non c'entra un accidente perché non c'era all'epoca era uno strumento che si chiamava e f s f mess è stato creato dopo perché perché il salvataggio della grecia fu fatto male fu fatto molto male noi lo che io lo criticavo all'epoca qui mentre lo si faceva perché si coinvolse il fondo monetario internazionale si lavorò alla salvezza del debito che i greci non erano più in grado di rimborsare salvando in primis le banche che erano soprattutto tedesche e francesi che avevano prestato i soldi ai greci ma l'operazione final netto di questo errore che considerai e considero un errore grave al netto di questa operazione la grecia che era in bancarotta per avere falsificato i conti ed essendo la grecia il paese dell'unione europea che più è cresciuto economicamente si è giovato dall'ingresso nell'euro e ha poi falsificato i conti la grecia è stata salvata salvata chiaro perché il governo cipras ha trattato giustamente dal suo punto di vista e l'europa ha giustamente assecondato perché che volevi fare l'allungamento dei tempi del debito e il tasso di interesse più basso la grecia paga sul suo debito pubblico un tasso di interesse inferiore all'italia è stata salvata e cioè vallo a dire vallo a dire nei nelle piazze greche non c'è bisogno che glielo vada a dire io fra l'altro non conosco il greco contemporaneo c'è un problema hanno votato hanno votato prima cipras che ha fatto questi accordi e poi chi ha voluto rispettare questi accordi la grecia dei greci non dice le minchionerie che si sentono in italia su questo però davide sì ci vorrebbe solo un buon giornalismo non c'è dubbio davide ti ho ti volevo proporre ma molto velocemente il titolo del quotidiano il manifesto questa mattina cecità lombarda vogliamo aggiungere che è in atto diciamo una campagna un po' sommaria ai danni della regione lombardia la sanità regionale va commissariata e rivolta contro la gestione fallimentare si legge nell'occhiello del manifesto del covid della giunta fontana il giallo della cura dei contagi che resta alta si allarga anche l'inchiesa sulla strage degli anziani nelle rsa come la mettiamo l'evidente campagna diciamo così sulla contro contro la sanità lombarda e sotto gli occhi di tutti ed è sotto gli occhi di tutti anche il problema drammatico che la sanità lombarda ha avuto in lombardia su cui una cosa non nega l'altra io rimango dell'opinione che queste cose vanno studiate vanno dette non vanno taciute in niente in niente anche nelle infamità che sono state eventualmente messe in atto per imparare e cambiare la sanità lombarda era un ottimo esempio in condizioni normali si è rivelata una tragedia in condizioni non normali quindi dobbiamo imparare il veneto in condizioni di tragedie di emergenza si è rivelato un sistema efficiente allora anziché tirarmelo dietro la schiena che non so che farme di queste notizie devo imparare ad adeguare le cose perché ci sarà sempre un domani e ci sarà sempre un futuro cui provvedere se penso di risolvere la faccenda con questioni di schieramento politico intanto informate gli astanti che in veneto e in lombardia c'è la stessa equilibrio politico quindi diciamo così da questo punto di vista sembra essere un gioco per fessi grazie grazie a davide giaccarone anche per gli approfondimenti di oggi ci ritroviamo come sempre domani intorno a quest'ora buon lavoro e buona giornata grazie a voi buona raggio a tutti mercoledì mattina in collaborazione con confindustria come di consueto è il momento del post in fabbrica la nostra finestra che è rimasta aperta e lo sottolineiamo con orgoglio sulle imprese italiane sulle industrie italiane poco fa parlavamo delle app che ci accompagneranno ammesso che decidano quale ricordo che la commissione incaricata a proposito di commissioni e di 74 elementi auguri ebbene questa mattina parliamo con chi ne sa sul serio di queste faccende di chi ha creato un'azienda straordinaria vetria nata nel 2010 a orvieto che oggi ha sedi pensate stati uniti in california per essere precisi brasile malesia spagna regno unito tra poco anche in russia insomma per lui il digitale è stata realmente stato realmente l'autostrada per il futuro il cavaliere del lavoro luca tomassini che con noi il fondatore di vetria buongiorno e benvenuto una buona giornata una buona giornata cavaliere subito sono rimasta colpita dalla distribuzione che avete in vari paesi del mondo quindi le vorrei chiedere come ha vissuto la sua realtà vetria appunto l'arrivo della pandemia a seconda dei luoghi dove siete dove esistete dove dove ci siete dove state ma guardi per noi è del tutto naturale lavorare in smart working devo dire che non è il massimo della felicità operare in una situazione drammatica come questa però noi lavoriamo con gli sviluppatori lavoriamo con gli analisti lavoriamo con gente che è abituata a stare davanti ad uno schermo a scrivere a scrivere codice per cui fisicamente stare in azienda stare all'interno del campus piuttosto che stare a casa e sviluppare i vari moduli delle piattaforme digitali che sono poi il nostro core business ci cambia poco certo certo il digitale non potrà mai sostituire un un abbraccio un saluto una stretta di mano una una socialità che è naturale però devo dire non non abbiamo avuto particolari impatti come dire economici o problematiche legate a allo sviluppo del lavoro ecco noi abbiamo detto ai nostri ascoltatori che voi vi occupate in maniera eccellente di comunicazione appunto digitale e di intelligenza artificiale avete 200 dipendenti e ne cercate altri 10 vogliamo spiegare bene ai nostri ascoltatori di che figure professionali avete bisogno sì guardi noi in realtà mettere il limite a 10 sinceramente non me la sento io cercherei molte persone eh che operano soprattutto sul campo del del data science quindi eh la possibilità di andare a valorizzare i dati eh che noi umani generiamo attraverso i diversi device e quindi ehm persone che sono in grado di di fare big data analysis persone che sono in grado eh anche di programmare in ambienti di intelligenza artificiale eh persone che conoscano sì la programmazione ma che eh siano in grado anche di eh capire l'elaborazione di di questi dati eh sì questo stiamo cercando stiamo cercando persone perché di fatto questo nuovo mondo eh ci impone di andare a lavorare moltissimo in ambienti di machine learning e in ambienti di intelligenza artificiale perché che che se ne dica Cavalier Tomassini il digitale senza le persone semplicemente non esiste anche se qualcuno per anni ci ha raccontato ho provato a raccontare storie completamente diverse ricordate se volete candidarvi a vetria avete sentito non necessariamente dieci se siete bravi se siete capaci se avete una mentalità aperta non solo se sapete programmare ma se avete anche delle qualità umane www.unimpiego.it slash il post in fabbrica vetria può essere la vostra occasione della vita Cavaliere visto che lei è un'autorità indiscutibile in merito e in materia chiedo scusa questa faccenda dell'app e dell'uso dei nostri dati nei mesi che ci aspettano lei che idea se n'è fatta riusciremo a individuare un'app in tempi rapidi a utilizzarla e bene guardi io qui devo devo fargli due tipi di considerazione la prima è che noi eh in tempi non sospetti in sette di di marzo eh abbiamo proposto subito al al governo italiano una una soluzione una soluzione basata sul bluetooth eh che poi di fatto è la soluzione in qualche modo che è stata riconosciuta in ambito europeo su un progetto europeo importantissimo la soluzione che mantiene eh riservati i dati mantiene la privacy abbiamo fatto un accordo importante con con Sogei che come sa la società del ministero delle finanze per fare in modo che questi dati restino all'interno eh della nostra del nostro paese Davide Giacalone che sono titolo prima eh ha fatto delle osservazioni importantissime in tal senso eh sette di marzo niente call del ministero eh devo dire che il presidente Conte eh mi ha risposto dicendo eh la cosa interessante eh la cerchiamo di mandarla avanti e era l'otto di marzo a tutt'oggi c'è stata la call del ministero c'è stata la creazione di una task force eh nulla nulla è successo del resto in Italia c'è una task force per qualsiasi soluzione a me non interessa qual idea vincerà faccio un imprenditore e quello che mi interessa è realizzare soluzioni dove l'innovazione di valore sia un vantaggio competitivo per i miei clienti in questo caso specifico non lavoriamo no di proposito con la pubblica amministrazione anche anzi direi in questo caos specifico mi faccia dire è ancora più evidente eh l'essenza eh l'assenza di metodo cioè per la situazione che stiamo vivendo era imprevista forse ma perché mi chiedo prima fai una call poi dopo una settimana stabilisce una commissione di di con più di 70 persone ma soprattutto dopo un mese ancora non è chiaro in base a quali principi debbano decidere prezzo privacy diffusione se non hai obiettivi e priorità chiare trasparenti come puoi fare una scelta ora poi abbiamo una nuova task force guidata dal dottor Colau che conosco personalmente e a cui faccio i complimenti come si relazionano tra loro in base a che cosa dovranno decidere non possono notare che queste forme di dilettantismo procedurale prima si fa un piano strategico poi si decide cosa eh cosa fare poi un piano tattico per arrivare all'obiettivo insomma di sicuro non aiutano ecco cioè che cavaliere certo di sicuro non aiuta io personalmente sono soddisfatto perché oggi ha vinto se la scelta di google e apple è quella collegata al bluetooth vuol dire che l'idea lei aveva ragione certo lei aveva ragione il problema sa io guardo banalmente il calendario il 7 lei ha sentito conte marzo oggi è se non sbaglio il 15 aprile e siamo qui ad aspettare la decisione dei 74 sull'app fatevi i vostri calcoli non aggiungo comunque cavaliere Tomasini le sue parole ragionevoli ricche ovviamente di competenza e di esperienza beh non rimarranno qui arriveranno sicuramente anche al presidente del consiglio grazie per essere stato con noi la ringraziamo veramente di cuore per il tempo che ci ha concesso buona giornata grazie a voi grazie salutiamo subito anche don Antonio don Antonio buongiorno bentornato buongiorno ascoltatemi bene lasciatevi cercare ma finché c'è tempo cerchiamo di facciamo le prove noi per diventare buoni facciamo le prove per diventare buoni tutti 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 va bene finché c'è tempo niente male come idea no no hai ragione abbiamo il tempo per fare le prove perché poi le mettiamo in atto quando usciamo tutti ecco ecco non perdiamo tempo va bene anche perché una prova a Fulvio ce l'abbiamo davanti a noi che è quella del covid quindi insomma è una prova che imporrà di tirar fuori il meglio da ciascuno ci sono dei dati Fulvio tutti da commentare e sì quelli a cui facevamo cenno già subito prima del giornale orario delle otto del mattino un crollo prevedibile intendiamoci dei consumi a picco letteralmente del mese di marzo ma che fa soprattutto pensare ad un mese di aprile con un pil oltre almeno 10 per cento un primo trimestre già a meno 3,5 del resto i dati di ieri della conf commercio si sono sposati agilmente con quelli del fondo monetario internazionale che sono arrivati nel pomeriggio che addirittura disegnano un meno 9,1 per cento del prodotto interno lordo italiano per l'intero 2020 i commenti li abbiamo affidati questa mattina a Davide Giacalone queste sono le cifre ripeto non una sorpresa il punto reale è che non possiamo fermarci alle cifre ma puntare scommettere su un rimbalzo che abbiamo tutte le possibilità di farlo potrebbe essere straordinario ma se non lo prepariamo adesso rischiamo poi di fare il rimbalzino e allora lì veramente sarebbero dolori e allora salutiamo e parliamone proprio col direttore generale di commercio mariano bella buongiorno grazie per essere in diretta su rtl cento due cinque buongiorno buongiorno grazie a voi per l'invito buongiorno bella senta può farci subito una fotografia della situazione dei consumi nel nostro paese e i dati non sono ovviamente e comprensibilmente confortanti però vediamo cosa resiste e cosa no sì noi abbiamo fatto il focus su marzo per quanto riguarda i consumi con una piccola previsione per aprire per quanto riguarda il PIL quindi non stiamo facendo una serie di congetture che riguardano tutto il 2020 stiamo guardando le cose come sono andate a marzo e basandoci su dati purtroppo molto molto verosimili in alcuni casi proprio dati eh dati sicuri complessivamente noi valutiamo una perdita a marzo di consumi rispetto al 2019 del 30 per cento ora quando noi abbiamo fatto questa valutazione 30 31 per cento abbiamo pensato a forza sbagliata sinceramente perché anche gli analisti diciamo che da 30 anni sono a sto mestiere il numero di questo genere non l'hanno mai visto e poi invece però eh siamo partiti da tip base allora devo dire che l'accoglienza turistica fa meno 95 per cento dall'ultima settimana di marzo le immatricolazioni di auto a privati nel mese di marzo sono scese dell'ottantat per cento piccola parentesi all'aprile la prima settimana le immatricolazioni fanno tipo meno 99 per cento le vendite di abbigliamento e calzature visto che i negozi come tutti sanno sono chiusi sbarrati per la maggior parte delle aziende che non fanno che non usano il canale online stanno facendo meno 100 per cento la ristorazione quasi meno 70 per cento e quindi se andiamo avanti con questi arrivano ampiamente a quel eh meno trenta per cento quali sono i settori che almeno fino a marzo hanno tenuto bene anzi benissimo gli alimentari e le grande a nostro avviso potrebbero chiudere il primo eh il il primo trimestre o segno poi a marzo fare qualcosa come più dieci per cento da cosa deriva questo dieci per cento del degli alimentari dall'accavarramento no il stato gli italiani sono molto responsabili si importano molto bene l'accavarramento è durato un giorno derivano dal naturale spostamento di risorse dalla ristorazione fuori casa alla ristorazione in casa quindi è una migrazione dalla da dagli alberghi dei ristoranti al agli alimentari in casa cos'altro tiene eh prodotti farmaceutici e terapeutici servizi per le comunicazioni a nostro avviso e poi stop poi è una sequenza di semi meno che sinceramente non si sono mai viste almeno nella storia regione almeno da quando ci sono statistiche affidabili. Sì direttore questi sono di fatto già nei libri di storia ma è magrissima consolazione del resto possiamo aggiungere il nostro di settore che vive di pubblicità azzerato letteralmente nel mese di marzo ma lei lo sa la pubblicità eh di fatto nel nel settore radiofonico noi poi abbiamo come dire il canale radio televisivo che diventa assolutamente strategico ma questo è un altro settore che si è trovato letteralmente azzerato direttore prima mentre la cercavamo al telefono ci siamo permessi di dire questa è la realtà di oggi questi sono i numeri e diciamola tutta non potevano essere diversi con il paese chiuso fermo il problema è scommettere adesso programmando su un rimbalzo forte perché se poi facciamo il rimbalzino siamo veramente nei guai abbiamo le possibilità di fare il rimbalzo ma come lo prepariamo oggi? Beh eh le hanno messo tanta carne al fuoco e tutta carne che non fa mangiare, che non fa affrontare il rimbalzino o il rimbalzone il cattro vediamo che cosa bisognerebbe fare per sperare di non creare lesioni permanenti al tessuto produttivo cioè quando ripartiamo che ci sia ancora il tessuto produttivo come c'era prima e fidandoci degli imprenditori e delle istituzioni di ripartire. Oggi bisogna fare in modo che appunto le imprese non chiudano definitivamente e quindi quando si potrà riaprire non ci sia una riduzione dell'occupazione del tessuto produttivo e quindi un incremento per esempio della povertà assoluta. Cosa si deve fare? Per adesso mi pare che in Italia si sia puntato sulla liquidità ma la liquidità vuol dire che io imprenditore che ho perso il cento per cento del mio reddito mi fido del futuro e mi faccio prestare dei soldi che poi comunque devo restituire al sistema bancario. Questo potrebbe non bastare. Quello che manca a nostro avviso è un sistema di trasferimenti e fondo perduto proporzionali al reddito perso che è poi diciamo il teorema Draghi in un momento come questo eccezionale in cui la colpa non è del mercato degli sprenditori, viene dall'esterno. In un momento eccezionale come questo si deve fare del debito pubblico che serve per assorbire le perdite private. Nulla di più, nulla di meno e questo diciamo si sta facendo un po' in parte c'è la burocrazia che in Italia è un problema che vediamo anche adesso. I soldi ancora non sono attivati, la liquidità al nostro avviso non è l'unico pilastro su cui puntare. Rimbalzino, rimbalzone. Ok, questo dipende dall'assitudine, l'abbiamo detto, c'è però un problema di debolezza strutturale del nostro paese che prescinde dal coronavirus. Io voglio ricordare senza sconcertare nessuno che nel 2019, prima dell'emergenza sanitaria, noi non avevamo ancora recuperato i livelli di reddito disponibile pro capite di consumo del 2007, cioè le doppie crisi 2009 e 2012 non le avevamo ancora riassorbite. Sì, sì, totalmente, chiarissimo. Qual è il timore? La caduta del 2020 ce la porteremo per i prossimi. Con una decina d'anni. Sono timore, speriamo che le cose vadano molto meglio. Lavoriamo per esatto, lavoriamo proprio per evitare tutto questo, sì. D'accordo, Fulvio, certamente. Al direttore generale di Confcommercio, diciamo grazie per questo intervento, Mariano Bella, buon lavoro, ci sentiamo molto presto. Grazie a voi, a presto, buon lavoro. Ci ha raggiunti, lo abbiamo più volte anticipato e annunciato, il ministro per gli affari regionali, Francesco Boccia. Ministro, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buona giornata a tutti. Buongiorno, ministro, non è male cominciare la mattinata con un conduttore che confonde Italia Viva con l'Italia dei Valori. Qui potremmo stare a lungo a parlare delle differenze tra l'ex partito. L'ho fatto anch'io, eh, per Luigi, ma viene facile. Eh, beh, sì, è quello di Rezzi. Appunto, Ivi. Senta, ministro, innanzitutto grazie per il tempo che ci sta concedendo. Allora, noi abbiamo ricevuto questa mattina qualche messaggio da parte dei nostri ascoltatori che hanno avuto già l'accredito dei 600 euro e questa è una buona notizia, perché il ministro competente Catalfa aveva detto che eh l'accredito sarebbe arrivato tra il quindici e dici e sette aprile e questa è una prima misura, sperando che l'accredito in banca arrivi veramente ai conti correnti a tutti quelli che lo hanno richiesto. Nel mese di eh eh maggio che cosa accadrà? Si aumenta ottocento come si mormora in questi giorni? Guardi lo stiamo valutando e tutto quello che sarà necessario fare lo faremo e guardi in questi giorni, in questi giorni, in questi 45 giorni eh sono accadute cose inimmaginabili fino a due mesi fa eh se ci avessero detto che il bilancio dello Stato avrebbe subito tutte le modifiche, le variazioni che ha subito nessuno di noi ci avrebbe creduto e avremmo dato al nostro interlocutore dell'insano di mente e invece siamo stati eh tutti dentro questa rivoluzione epocale e la cosa che possiamo dirci che quando ripartiremo nulla davvero sarà come prima e quindi anche quando sono passati un po' di giorni in più eh io ricordo che nei giorni successivi il primo provvedimento sul blocco dei prestiti personali delle rate dei mutui sul blocco delle imposte e dall'agenzia delle entrate alle banche ci ha messo quattro cinque giorni a volte anche dieci giorni per adeguarsi a provvedimenti che nemmeno quelle strutture avevano mai assoltato prima però quando dicevamo guardate con una mail si blocca eh la rata del mutuo era così ed è stato così è diventato così così e anche per i bonifici non solo per gli autonomi ma anche per le casse integrazioni avrete ascoltato anche voi alcune polemiche nei giorni scorsi io cerco di buttare un giorno acqua sul fuoco perché sono tutti eh animati dalla volontà di far qualcosa però l'unica cosa che dobbiamo fare insieme è evitare di far polemiche inutili le casse integrazioni in questo mese saranno pagate tutte ovviamente per le casse in deroga eh c'è bisogno che le regioni avanzino le domande e a domenica sera erano arrivate undici domande da parte di undici regioni stanno arrivando tutte le altre e l'Inps le sta processando a frui di mezzo e giuria mi risulta che alcune alcune territoriali abbiamo già iniziato a pagare da da lunedì mattina stessa cosa è successo da oggi poi come aveva detto la ministra Catalpo sulla liquidità stiamo chiedendo alle banche di dimezzare i tempi e quindi speriamo di garantire la liquidità alle imprese nell'arco di quindici venti giorni anziché nel mese e mezzo che era stato stimato inizialmente e è una corsa sempre comunque contro il tempo è stata una corsa contro il virus è quella dobbiamo vincerla e sta andando meglio da qualche giorno eh grazie al sacrificio di tutti gli italiani sugli strumenti economici sarà una 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 guerra inevitabile contro contro le difficoltà sociali e noi dobbiamo anche qui eh mettere davanti la dimensione sociale rispetto alla dimensione economica perché come l'abbiamo conosciuta eh negli ultimi decenni eh io penso che anche le parole di Papa Francesco negli ultimi in questi ultimi giorni siano una rotta nulla sarà come prima guardate anche il il modo di concepire il lavoro io penso che eh sarà inevitabile valutare il lavoro per quello che si fa e non per le ore eh in cui si lavora ovviamente per alcune categorie eh di lavoro a maggior ragione in una fase come questa eh bisogna dare alle imprese tutti gli strumenti di cui hanno bisogno quindi dalla riduzione delle tasse sul lavoro alla semplificazione anche la burocrazia non sarà più la stessa che sia un po' più semplice dovranno diventare dei semplificatori esatto siccome abbiamo potuto fare in pochissimo tempo in questi giorni alcune cose e dico abbiamo perché non le abbiamo fatte le soli le abbiamo fatte noi le le abbiamo fatte le regioni le abbiamo fatte i comuni con ruoli diversi siccome le abbiamo potute fare in pochissimi giorni a volte in qualche settimana si possono fare sempre ovviamente per farlo bisogna cambiare eh non solo i nostri modi di di concepire la dimensione sociale la dimensione economica ma anche le regole Ministro Boccia eh la corsa contro il tempo adesso è sul ripartire no? Evidentemente siamo nella famosa fase due eh per esempio abbiamo avuto poco fa in diretta il direttore generale di Confcommercio che ha fatto riferimento ad una richiesta molto specifica di liquidità a fondo perduto è una via impraticabile? Ma guardi intanto per diciamo quando si parla di liquidità a fondo perduto si sta parlando di soldi pubblici da dare ai privati e allora anche qui dobbiamo essere seri e la strada maestra l'ha già indicata qualche settimana fa Mario Draghi quando ha parlato di pubblicizzazione dei debiti privati e io penso che ci arriveremo ma ci dobbiamo arrivare in maniera seria intanto ora facendo le cose che si possono fare perché le le risorse ovviamente sono risorse di tutti ci sono imprese e ci sono lavoratori ci sono italiani senza lavoro che hanno bisogno assoluto di aiuto e di valdato e poi ci sono ci sono settori e categorie e che non hanno subito la stessa crisi di chi non lavora più ed è ovvio che bisogna fare delle distinzioni quindi penso che in questo momento sia opportuno fare le cose che il quadro il contesto non solo europeo ma anche nazionale ci consentono per rispettare tutti nel milione dei modi perché le risorse che stiamo prendendo le stiamo prendendo a debito sono le risorse che ci mettiamo sulle spalle nostre dei nostri figli e le risorse non arrivano dal cielo sta aumentando il debito pubblico e di questo dobbiamo essere consapevoli io penso che sia giusto e inevitabile e lo stiamo facendo abbattendo tutti i vincoli a cui eravamo abituati quante volte abbiamo discusso con voi con i nostri colleghi sui vincoli di bilancio dell'unione europea non ci sono più di fatto sono saltati tutti e però dobbiamo sapere che stiamo in una fase drammatica come stiamo vivendo stiamo aumentando il debito e sarà giusto aumentarlo per coloro che hanno bisogno per coloro che non ce la fanno più e coloro che non hanno questo bisogno devono aiutare gli altri e quindi inevitabile ci saranno delle distinzioni ma la strada maestra della pubblicizzazione di parte del debito privato io penso che sia la strada alla quale dovremmo arrivare io mi auguro che si possa arrivare tutti insieme in Europa guardate perché non ce la fa nessuno da solo nemmeno in Europa spero lo capiscano e io penso che questa sia l'occasione per distinguere anche tra chi ha un concetto di comunità e tra i nazionalisti e i sovranisti europei in questo momento sono gli stessi che non vogliono non solo il debito comune ma non vogliono nemmeno che si rafforzi questo senso di comunità dentro l'Europa e questo è un tema politico che la politica deve risolvere ministro boccia lei prima ha detto i soldi non arrivano dal cielo ecco allora diciamo i soldi stanno arrivando dall'Europa questa cosa forse la dobbiamo dire un po più spesso agli ascoltatori che sono distratti incolpevolmente anche da polemiche surreali ministro lei in questo momento per esempio è ospite di un'azienda di una radio di un'azienda che è completamente azzerata nei noi siamo fra quelli che lavorano senza guadagnare nel senso che non incassiamo perché il lei lo sa il settore pubblicità in particolare il comparato radiofonico è completamente azzerato quindi siamo qui per senso di responsabilità scommettendo sul futuro visto che noi scommettiamo perché ci crediamo e vogliamo essere qui tra 1 2 10 20 anni a fare il nostro lavoro però abbiamo bisogno di chiarezza perché questa premessa perché lo chiedo al ministro per gli affari regionali possiamo programmare una ripartenza con 52 diverse normative possiamo programmare una ripartenza in cui ci dicono andiamo al mare ma non sappiamo come possiamo programmare una ripartenza in cui perdiamo intere giornate a litigare sul mess però sono 36 miliardi che potremmo avere senza condizioni possiamo impiccarci alle ideologie no no non dobbiamo fare nulla di tutto questo non possiamo farci condizionare dei pregiudizi né che meno da 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 ideologie che in certi casi alimentano solo un'idea secondo me sbagliata di consenso nel senso che c'è 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 vantaggi che utilizzo l'Olanda non ci sarebbe più l'affetto che c'è oggi in Olanda e devono capire che il senso di comunità oggi abbiamo il dovere di ricostruirlo e non si può pensare che le imprese che voi in questo momento state facendo un lavoro straordinario, un'informazione senza sosta e aggiuntiva che è fondamentale per il paese, per il pluralismo, per tutti coloro che hanno bisogno di capire come stanno andando le cose e farlo senza entrate per qualsiasi impresa è impossibile, si va inevitabilmente sull'astrico e questa condizione è una condizione che solo lo Stato può aiutare a far superare le imprese e quindi le certezze vedrete che arriveranno e arriveranno nelle prossime settimane, il provvedimento di fine aprile sarà un provvedimento per lo sviluppo e per la crescita, non poteva essere altrimenti, nelle prime settimane si doveva pensare all'emergenza assoluta che era soprattutto sanitaria e tutti i provvedimenti sono stati fatti per costruire questo sistema del quale dobbiamo essere orgogliosi perché è nato su una base che già c'era, è nato sull'idea della salute come diritto universale, io in questo momento sono orgoglioso di essere italiano perché quello che succede in Italia non succede negli altri paesi, qui nessuna persona è lasciata per strada, ogni italiano è curato, ogni italiano è curato fino all'ultimo secondo e nessuno deve mettere le mani su una carta di credito. Senta Ministro, lei parlava prima di informazione, grazie per aver riconosciuto ovviamente pubblicamente il nostro lavoro, le faccio una domanda, spero che lei mi risponda con la franchezza che la contraddistingue da sempre, insomma c'è questa commissione sulle fake news, una commissione di esperti voluta anche dal governo eccetera, è utile a qualcosa secondo lei Ministro, proprio soggettivamente, perché noi siamo operatori dell'informazione e fortunatamente distinguiamo una notizia da una non notizia e tentiamo di fare il nostro messiere con il massimo del buonsenso e del senso dello Stato, mi permetta di aggiungere in questo momento. Francamente insomma non si è ben capito su cosa debba lavorare sta commissione, ce lo può spiegare lei? Ma guardi, le fake news sono nate con l'avvento dei social, perché mentre per radio, sui giornali, in tv è facile distinguere una cosa vera da una cosa falsa e chi falsifica l'informazione ne risponde davanti ad un magistrato, sui social purtroppo, aggiungo io, è possibile nascondersi, è possibile alterare la propria identità ed è possibile scrivere cose false. Io da anni, questa è stata la mia battaglia, ho sempre sostenuto la necessità del profilo riconoscibile di ognuno, perché non si capisce perché sui social che hanno la stessa valenza di qualsiasi altro mezzo di comunicazione debba essere possibile la clandestinità e quindi anche la falsificazione delle notizie e aggiungo, ho sempre detto che al tempo della società digitale distinguere un'informazione vera scritta da un giornalista e un giornalista è riconoscibile per la sua storia, per il suo curriculum, per la sua iscrizione a un ordine, è un diritto di chi legge e io devo sapere se quella informazione è stata scritta da un cittadino libero vero, da un cittadino clandestino o da un giornalista e questa distinzione così come avviene in tv, nelle radio e nei giornali deve avvenire anche sui social e ci arriveremo, io penso che questa commissione debba aiutarci a fare questo lavoro e ci sarà un momento in cui la clandestinità dovrà essere trattata come trattata gli altri mezzi di informazione e soprattutto dobbiamo consentire ai cittadini di distinguere una notizia scritta da un giornalista per il quale, ho raccontato una giornalista per il quale, un professionista insomma oppure da un cittadino. Lui o la sua azienda hanno diritto al diritto d'autore in qualche modo da una cosa scritta da un cittadino libero per il quale si assume è la responsabilità di poter scrivere. Lo stesso cittadino, perfetto. E questa cosa è fondamentale. Certo, ci dobbiamo salutare, la ringraziamo per il suo intervento di questa mattina, le auguriamo un buon lavoro e ci sentiamo presto. Grazie a voi, buon lavoro. Non Stop News, a cura della redazione giornalistica di RTL 125, direttore responsabile Luigi Tornari.